Presidente, grazie Ministro. Dal 16 ottobre è operativo il passaggio forzoso dei clienti della banca intesa San Paolo alla Easy Bank. Sono interessati circa 4 milioni di utenti clienti e passeranno alla Easy Bank che è una banca che non ha sportelli sul territorio, una banca che non ha una piattaforma di internet banking online, una banca che può essere utilizzata soltanto attraverso app e quindi da smartphone e tablet. È chiaro che ci sono diverse problematiche perché tra l'altro c'è una variazione del codice IBAN per gli utenti clienti e quindi siamo assistenti a diverse proteste e diverse lamentele. Adesso da parte nostra è necessario come sapete intervenire per fare in modo che ci sia sempre in sicurezza quella che è la gestione e i risparmi siano in questo caso gestiti al meglio. Pertanto quindi chiediamo al Ministro se il Governo quindi intende intervenire per tutelare al meglio l'interesse dei cittadini e degli utenti. Grazie. Grazie Onorevole Cannata. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Senatore Luca Ciriani, ha facoltà di rispondere. Prego Signor Ministro. Sì, grazie Signor Presidente e colleghi onorevoli deputati. In riferimento al quesito opposto degli onorevoli interroganti concernente il trasferimento di alcune categorie di correntisti di Intesa San Paolo e la cosiddetta clientela digitale alla banca online Easy Bank, parte del medesimo gruppo ma completamente online e fruibile esclusivamente mediante un'app dedicata, si segnala preliminarmente che l'operazione non è stata comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e pertanto le informazioni sono state acquisite dalle competenti autorità di vigilanza. In particolare Banca d'Italia ha comunicato che nella interlocuzione con Intesa San Paolo sull'operazione ha raccomandato all'intermediario di curare attentamente la comunicazione alla clientela, consentire ai clienti non interessati al passaggio in Easy Bank di mantenere il rapporto con Intesa San Paolo, assicurare l'ordinato trasferimento dei rapporti. Banca d'Italia ha comunicato che Intesa San Paolo ha fornito rassicurazioni al riguardo. Successivamente all'avvio dell'operazione Banca d'Italia ha ricevuto diversi esposti relativi ai trasferimenti dei rapporti di conto corrente verso Easy Bank. In relazione a tali esposti, Banca d'Italia ha chiesto a Intesa San Paolo conferma 1. di aver proceduto a dare comunicazioni adeguate alla clientela da trasferire, 2. di aver previsto la possibilità per coloro che non si riconoscono nella categoria della cosiddetta clientela digitale di non essere trasferiti, 3. di consentire il rientro in Intesa San Paolo per coloro che lo richiedano dopo i termini inizialmente previsti per l'esercizio di tale facoltà. Inoltre, Banca d'Italia ha raccomandato l'esigenza di continuare a prestare assistenza alla clientela coinvolta e di fornire riscontro a tutti i reclami ricevuti. Anche su tali aspetto, Banca d'Italia ha comunicato di aver ricevuto adeguate rassicurazioni da Intesa San Paolo e ha confermato che continuerà a monitorare l'operazione per i profili di competenza. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Ringrazio anche il Ministero per la velocità con la quale ha voluto portare la propria risposta a questo tema che solo lunedì scorso avevo cercato di portare qui in aula sull'attenzione a questo problema che il mio collega ha sapientemente illustrato. Ma quello che ha appena riferito il Ministero conferma esattamente la nostra preoccupazione. Banca Intesa su questa operazione non ha avvertito neppure il Ministero e ha disatteso pure le indicazioni di Banca d'Italia, ovviamente, che deve controllare le banche nel territorio nazionale, di in qualche maniera bypassando le loro raccomandazioni di fare una comunicazione chiara ed inequivocabile sul passaggio che ovviamente si sarebbe apprestato a fare di questi conti correnti. Invece la banca con furbizia ha agito al limite della norma con evidenti difetti di comunicazione quando per un trasferimento di questa portata, ovviamente, con banche decisamente diverse l'una dall'altra, ci saremo dovuti aspettare un ben altro tipo di comunicazione. Per cui la richiesta di riaprire i termini per permettere a questi clienti di non essere trasferiti, a mio avviso, è sacrosanta. Da chi gestisce i nostri risparmi dobbiamo esigere realtà e trasparenza. Questi metodi padronali non sono più omissibili. Occorre sempre ricordare che le banche gestiscono non soldi suoi e quando si maneggiano soldi di altre persone bisogna utilizzare la massima trasparenza e correttezza. Non è più accettabile che gli istituti di credito perseguano solo i propri interessi e non quelli dei risparmiatori. Come gruppo di Fratelli d'Italia vi esortiamo quindi a continuare a vigilare su questa vicenda. Io in prima persona continuerò a seguire questi aspetti anche nel prossimo futuro perché certi istituti sono sempre pronti a mobilitare i media e anche larghi settori della politica quando si tratta di intaccare i propri interessi ma quando si tratta di ignorare gli interessi dei propri risparmiatori ovviamente si disinteressano completamente.